Il commercio Appavia è da sempre un'eccellenza. L'ampia varietà dei prodotti offerti ha dovuto fare i conti però negli anni con l'aumento dei problemi e parallelamente con la chiusura di tante attività. Il nostro tour dei quartieri è evidenziato come i negozi storici riescono a resistere soprattutto nelle periferie del capoluogo dove il senso di comunità è ancora piuttosto radicato. In centro invece le saracinesche continuano ad abbassarsi. Ne abbiamo parlato con un commercialista che segue numerose piccole attività. Questo depaupera la città, quello che noi di solito raccomandiamo e su cui lavoriamo è la specializzazione, l'investimento del commerciante nel know-how, in competenze distintive nel settore merceologico nel quale opera. È sempre più necessario che il commerciante sia preparato nell'attività che svolge, nel prodotto che va a commercializzare nel servizio che propone. Elementi che permettono di competere e raggiungere gli obiettivi in un settore sempre più complicato a causa della presenza della grande distribuzione e dell'e-commerce. È necessario quindi che i commercianti si reinventino. Tra i problemi principali denunciati dai negozi di vicinato spicca quello delle spese. Il tema tasse imposte e pressione fiscale generale è un tema sicuramente rilevante e impattante sulla salute e sulla capacità di durare nel tempo delle attività anche del piccolo commercio. La problematica che è molto ampia nel senso che imposte e tasse ci sono diversi capitoli e vanno un po' tutti analizzati a parte. Se parliamo di fiscalità generale nel senso di imposizione diretta, quest'anno la novità significativa è il concordato biennale che riguarderà una platea di 4 milioni di partite ive tra cui rientrano anche i commercianti in sede fissa. Il concordato permetterà a lavoratori autonomi e piccole imprese di congelare le tasse per un periodo di due anni. Anche i soggetti che magari per motivi indipendentemente dalla loro gestione hanno avuto un punteggio di affidabilità fiscale basso, speriamo che per qualcuno, insomma per il maggior numero possibile siano uno strumento per avere un rapporto col fisco più eco e anche più sereno.